Via La Gaudica Pestrano, dietro il cosiddetto treno, c'è il ferretto. Così l'ha chiamato il consigliere regionale Domenico Pettinari. Dopo l'abbattimento del ferro di cavallo è la nuova centrale dello spaccio. Arrancitelli, non solo. C'è prostituzione, purtroppo, anche minorile. Siamo a 200 metri dal ferro di cavallo. Dopo l'abbattimento del ferro di cavallo si è intensificata questa piazza di spaccio di droga che è una delle più importanti della regione Abruzzo adesso e si chiama il ferretto. Io l'ho denominato il ferretto. Qui c'è spaccio di droga, abusivismo, prostituzione, ragazze che si prostituiscono nella vicina via Tiburtina per pochi spiccioli e poi venire qua ad acquistare droga. I cittadini onesti mi chiamano e mi dicono che non ce la fanno più. Qui hanno paura, vivono nel terrore, nella paura, nel degrado, nella sporcizia, nell'insalubrità diffusa. Cittadini che hanno paura a scendere sotto, cittadini che hanno paura a mandare sotto i propri figli a giocare. Quasi scortati dalla polizia di Stato presente con la squadra volante, mentre i residenti restano in casa, dietro le finestre, curiosano chi con paura, chi incorre il sentimento, Pettinari ci porta dietro il portone di un condominio dove si spaccia regolarmente, ci mostra situazioni di assoluto degrado, abbandono, immondizia lasciata in quelle che furono aiuole. Io faccio questa conferenza dopo mesi e mesi e mesi di lavoro, di sopralluoghi, di attività quasi investigativa, di appostamenti, ho parlato con i cittadini, ho visto quello che si fa. Poi c'è tanto abusivismo, questi sono dei garage adibiti ad abitazione, quasi tutti i garage del piano terra, persone che vivono lì dentro. Ma come è possibile? Qui lo Stato deve tornare a restabilire legalità a tutela di chi? Dei cittadini onesti, perché ce ne sono tanti di cittadini onesti, brava gente, persone perbene che si alzano la mattina per andare a lavorare e non possiamo lasciarli nella paura e nel terrore che possa capitare qualcosa. Non solo denuncia, Pettinari fa richieste e proposte che non si risolvono in abbattimenti, che sono come nascondere la polvere di casa sotto il tappeto. L'abbattimento non serve a nulla, l'abbiamo visto, come vasi comunicanti, abbatti e si sposta di solo 200 metri la criminalità. Le Regioni Comune debbono fare immediatamente un censimento di tutte le abitazioni, verificare chi non ha i requisiti. Chi non ha i requisiti deve essere buttato fuori casa, assegnare le case ai tanti cittadini onesti che stanno marcendo in graduatoria e soprattutto attivare qui l'operazione strade sicure, che significa due militari e un poliziotto, due militari e un carabiniere. Esiste in altre città italiane, perché non si fa qui? Prima che sia troppo tardi, qui la malavita si è spostata e si sta vivendo la nuova stagione del ferro di cavallo. Non è possibile voltarsi dall'altra parte.